Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In nome di Cristo Gesù ti abbiamo pregato e ti ringraziamo per il suo sacrificio, il nostro lavoro. Amen. Amen. Benvenuto a tutti i fratelli e le sorelle che si sono collegati nel mentre. Ora avremo un momento musicale con Claudio. Oggi cantiamo un salmo. Spero che vi piaccia. Dio è per noi un rifugio ed è una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò noi non temiamo se la terra è convolta. Se i monti si smuovono in metro al mare. Se i monti si smuovono in metro al mare. Salmi 46, versetti 1 e 2. Salmo 46, versetti 1 e 2. Se volete anche capire, è un pochettino modificato. Un pochettino, un pochettino. Quindi salmi 46, versetti 1 e 2. Facciamo come facevano il popolo di Dio Israele che mettevano i versetti sulla melodia e così imparavano i versetti, anche i bambini. Dio è per noi un rifugio ed è una forza, un aiuto sempre pronto. Dio è per noi un rifugio ed è una forza, un aiuto sempre pronto. Salmi 46, versetti 1 e 2. Amén. Amén. Brava. Amén. Amén. Gloria al Signore per questo momento meraviglioso di lode. Un benvenuto a tutti i fratelli e le sorelle che ci sono collegati nel frattempo. e ora vogliamo dare la parola al fratello Dennis per l'inizio di questo studio. Fratello Dennis, fate la parola. Ok, grazie sorella per la parola. Grazie a voi tutti, spero che state bene. Gloria a Dio per tutto, per il sabato. Spero che state trascorrendo un bellissimo sabato. Allora, continuiamo la nostra giornata di oggi con l'appuntamento di questo pomeriggio con un argomento importantissimo per noi che siamo giunti alla fine dei tempi. Come titolo abbiamo messo come titolo lo scuotamento della Chiesa. Allora, prima di iniziare, vi condivido con voi il mio schermo. Lo scuotamento della Chiesa. Cosa è lo scuotamento della Chiesa? Di cosa si parla? Come Dio fa a separare il grano e la zizzania, i figli cattivi da figli buoni, i pesci buoni da pesci cattivi, qual è? Come Dio si comporta? C'è un principio biblico che andremo a vedere per poter capire come Dio fa. Perché ricordiamoci quando lui parla con i discepoli, quando lui dice che lasciate che il grano e la zizzania crescano insieme. La domanda che ci poniamo è come farà lui a separare questi due tipi di persone. Allora, prima di iniziare, farò una piccola preghiera. Padre, ti ringraziamo per questo momento. Riempici del tuo spirito. In Gesù Cristo, il nostro unico Salvatore. Amen. Lo scuotimento della Chiesa. Cos'è lo scuotimento? Cos'è uno scuotimento? Quando vediamo questa immagine, forse ci dà già un'idea. Cosa sta facendo questo uomo? Sta cercando di eliminare gli elementi che non sono importanti, che sono meno importanti per il cibo che verrà a mangiare poi, a cibarsi, usato per cibare o la gente o se stesso. Allora, cos'è lo scuotimento? Se andiamo insieme nel dizionario, scuotere. Cosa significa scuotere? Leggiamo insieme con la sorella Yolanda. Muovere in direzioni alterne, producendo oscillazioni o vibrazioni più o meno violente. Agittare, scrollare. Il vento scuoterà gli alberi. Se un tappeto, una tovaglia, per liberarli dalla polvere, scuotere un tappeto, una tovaglia, per liberarli dalla polvere o dalle bricciole. Gettare giù, far cadere qualcosa muovendo con forza ciò su cui si trova anche più, anche di più. Muoversi, agitarsi con forza, specie per scrollarsi di dosso qualcosa. Ok. Quindi vediamo scuotere, muovere in direzioni alterne, come abbiamo visto in queste immagini, producendo oscillazioni o vibrazioni meno violente. Agitare, scuotere. Quindi per poter eliminare gli elementi che non sono buoni. E qual è il rapporto con lo studio di oggi? Qual è il rapporto con il piano della salvezza? Qual è il rapporto con l'insegnamento che Gesù ci vuole dare oggi? Sappiamo che Gesù Cristo più volte usava il linguaggio dell'agricoltura per poter insegnarci o insegnare i discepoli o quelli che lo ascoltavano. e sappiamo che nella parola noi c'era un gruppo di persone nel popolo di Israele, i figli di Issachar, che avevano un compito preciso. Possiamo leggere in prima cronaca 12, versetto 32. Leggiamo insieme. Dei figli di Issachar che avevano intendimento dei tempi e sapevano quindi ciò che Israele doveva fare. Duecento capi e tutti i loro fratelli ai loro ordini. Ok. I figli di Issachar avevano intendimento dei tempi e sapevano quindi ciò che Israele doveva fare. E sappiamo che questi figli di Issachar avendo questi intendimenti potevano prevenire il popolo da tante cose, tante calamità oppure guerre che potevano succedere nel tempo. Allora, noi siamo stati chiamati all'esistenza con un certificato profetico preciso secondo la profezia del 2300 sere e mattine. Il popolo avventista in particolare. Quindi questa è la nostra identità. ma se perdiamo la nostra identità allora saremo un messaggero senza messaggio e noi corriamo il rischio nello scottimento di essere anche noi portati via dal vento durante lo scottimento. allora e sappiamo che abbiamo un nemico molto feroce come possiamo leggere in 2 Corinti 2 versetto 11 affinché affinché non siano soprafatti da Satana perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Non possiamo schiunire se abbiamo la nostra identità sappiamo chi siamo siamo il terzo Elia allora saremo avremo abbastanza saremo abbastanza come aggueriti per poter non essere intrappolati nelle macchinazioni di Satana. quindi la nostra identità è importantissima poter sapere chi siamo allora visto che se sappiamo già chi siamo dobbiamo anche sapere qual è il messaggio che dobbiamo portare al mondo e noi tutti siamo concordi che l'ultimo messaggio che dobbiamo portare al mondo è il messaggio dei tre angeli noi tutti siamo d'accordo ma se voi vi fa la domanda come mai il messaggio dei tre angeli è il messaggio della fine cosa potrete rispondere il messaggio dei tre angeli è il messaggio della fine in che senso lo possiamo dimostrare biblicamente cerchiamo di farlo insieme se andiamo insieme in Apocalisse capitolo 14 leggiamo Apocalisse 14 da versetti 14 a 16 poi vedi una nuvola bianca ed ecco sulla nuvola stava seduto uno simile a un figlio d'uomo il quale aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce tagliente un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che sedeva sulla nuvola metti mano alla tua falce e mieti poiché l'ora di mietere è venuta e perché la messe della terra è matura allora colui che sedeva sulla nuvola lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu miettuta noi qua siamo dopo il messaggio dei tre angeli c'è il messaggio del primo angelo del secondo angelo e del terzo angelo e dopo questo messaggio dopo il versetto 12 dove è scritto quella costanza dei santi che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede di Gesù al versetto 14 al 16 si parla di questa mietitura che è già pronta metti mano alla tua falce e mieti quindi dopo il messaggio dei tre angeli c'è la mietitura che arriva poi che l'ora di mietere è venuta e perché la messe della terra è matura quindi noi vediamo chiaramente che il messaggio dei tre angeli è il messaggio della fine perché poi dopo il messaggio della proclamazione dei messaggi dei tre angeli allora chi è santo continua ad essere santo chi è chi è impuro continua ad essere impuro quindi vediamo bene che la fine è già venuta è giunto il tempo della mietitura quindi visto che si parla di tempo della mietitura che il grano è già maturo andiamo ancora per vedere cosa dice Gesù nella parabola in Matteo capitolo 13 leggiamo insieme in Matteo capitolo 13 versetti 24 a 30 egli propose loro un'altra parabola dicendo il regno dei cieli è simile a un uomo che seminò buon seme nel suo campo ma mentre gli uomini dormivano venne il suo nemico e seminò la gizzagna in mezzo al grano e se ne andò quando poi il grano germogliò e mise frutto apparve anche la gizzagna e i servi del padrone di casa vennero a lui e gli dissero signore non hai seminato buon seme nel tuo campo come mai dunque c'è la gizzagna ed egli disse loro un nemico ha fatto questo allora i servi gli dissero vuoi dunque che andiamo e la estirpiamo ma egli disse no per timore che estirpando la gizzagna non sradicchiate insieme ad essa anche il grano lasciate che crescano entrambi insieme fino alla mietitura e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori raccogliete prima la gizzagna e legatela in fasci per bruciarla il grano invece riponetelo nel mio granaglio vediamo bene che Dio qua è molto il padrone è molto molto prudente ma egli disse no per timore che estirpando la gizzagna non sradicate insieme ad essa anche il grano lasciate che crescano entrambi insieme fino alla mietitura e la mietitura quando è l'abbiamo visto in Apocalisse capitolo 14 da 14 a 16 vediamo bene chiaramente che dopo il messaggio dei tre angeli che è il messaggio della fine c'è la mietitura e per poter separare il buon grano dalla zizzagna Dio eserciterà diciamo che avrà un modo molto particolare che vedremo insieme poi se andiamo in Matteo capitolo 13 per vedere bene in modo più chiaro i simboli e cosa rappresentano sarà ancora più chiaro leggiamo insieme con la sorella Matteo capitolo 13 da 36 a 40 allora la seminata è il diavolo mentre la mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli come dunque si raccoglie la zizzagna e si brucia nel fuoco così avrà alla fine del mondo è ben chiaro è così semplice il campo è il mondo perché Dio non fa come lui dice a Cornelio come dice Pietro in Atti capitolo 11 lui dice a Cornelio capitolo 10 lui dice a Cornelio che Dio non fa favoritismo perché ogni persona che adora Dio e cerca la giustizia gli è gradita ogni persona in base alla quantità di luce che ha ricevuto ma saremo anche giudicati sulla base della quantità di luce che avremmo potuto ricevere saremo anche giudicati sulla base di come avremmo usato il tempo che abbiamo a disposizione per poter entrare in conoscenza della piena conoscenza della luce non è che qualcuno può dire allora adesso visto che sarò giudicato sulla base della conoscenza della quantità di luce che ho ricevuto non studio più non faccio più niente no saremo anche giudicati in base a quello quindi non possiamo fare i furbi Dio dice il campo è il mondo il buon seme sono i fili del regno e la zizzagna sono i fili del maligno il nemico che l'ha seminato è il diavolo vediamo bene anche con la relazione alla scuola del sabato sulla sofferenza vediamo bene che Gesù prende le distanze dalla sofferenza non è lui l'autore del male il nemico che l'ha seminato è il diavolo mentre la mietitura è la fine del mondo i mietitori sono gli angeli più chiaro di così e Dio nella sua parola con Amos lui ci dà qualche direttiva sul sul processo che userà Amos 9 da 8 a 9 leggiamo insieme ecco gli occhi del Signore l'Eterno sono sullo regno peccatore io lo sterminerò dalla faccia della terra ma non sterminerò del tutto la casa di Giacobbe dice l'Eterno poiché ecco io darò il comando e valierò la casa di Israele fra tutte le nazioni come si valia col setaccio ma a terra non cadrà neppure il più piccolo chicco di grano capite fratelli e sorelle valierò la casa di Israele vi ricordate quando Gesù dice parla a Pietro quando lui dice che il nemico ha pregato che il nemico ha chiesto Satana ha chiesto di valiarlo come grano ne parleremo poi e cosa ha detto Gesù Cristo dice ho pregato per te ho pregato per te quando sarai fortificato ritorna e fortifica anche tu i tuoi fratelli cosa dice Dio valierò la casa di Israele fra tutte le nazioni con la casa di Israele siamo noi gli israeli spirituali come si valia col setaccio come abbiamo visto sull'immagine all'inizio del nostro studio ma a terra non cadrà neppure il più piccolo chicco di grano questa è una promessa che Dio ci fa significa che quando saremo nel valio quando saremo scuoti dovremo ricordarci della parola di Dio in Amos 8 versetto 9 neppure il più piccolo chicco di grano cadrà la terra questa è una bellissima promessa perché Dio non ci abbandonerà mai adesso andiamo a vedere insieme il processo del raccolto come Dio procederà per il raccolto come Dio procederà per la separazione del grano e della zizzania andiamo insieme per questo in Matteo capitolo 3 versetti 1 2 11 a 12 or in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino io vi battezzo in acqua per il ravvedimento ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali egli vi battezzerà con lo spirito santo e col fuoco egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia raccoglierà il suo grano nel granaio ma arderà la pulla col fuoco inestinguibile e sappiamo che come abbiamo detto più volte Dio ci parla del regno di Dio del regno dei cieli sempre usando un linguaggio nella maggior parte dei tempi un linguaggio di agricoltura e sappiamo che nell'agricoltura quando il grano è maturo cosa c'è cosa sono le tappe quali sono le tappe quando il grano è maturo abbiamo la battitura per poter separare fare in modo che il grano esca da queste non so come si chiamano ancora perché da qui così non si può mangiare perché tutto qua c'è un mischio e bisogna separare battere in modo che il grano esca e poi raccogliere il grano e fare altri altri lavori sempre per poter avere per pulire e avere il grano che sarà che si potrà essere mangiato quindi prima c'è la battitura noi quando entriamo per poter essere visto che siamo in questo processo c'è il tempo della battitura e poi c'è la valiatura come abbiamo visto quando si parla come abbiamo detto come abbiamo visto l'esempio di di Gesù Cristo poi ne ritorneremo ci ritorneremo quando lui dice che Pietro il nemico ha chiesto di valiati come si valia il grano durante la valiatura come vedete questa donna qua sulla foto c'è il vento che porta via il grano che è meno pesante ma quello che rimane dentro non è ancora pulito e vedremo perché non è ancora pulito di tutto qua il vento porta via il grano molto debole molto che non ha peso e cosa rappresenta il vento vedremo insieme cosa rappresenta il vento in questo processo di scottimento della chiesa poi c'è la valiatura sempre un altro tipo di valiatura qua il grano ancora più diciamo c'è rimasto dopo la valiatura prima valiatura c'è rimasto comunque qualcosa che è rimasto perché anche se con il vento anche se quando il vento passa prende via prende via il grano diciamo quelli che non hanno peso che sono deboli comunque rimane nel nel setaccio qualcosa c'è sempre qualcosa e poi c'è ancora questa fase in cui si continua di valiare per essere ancora più sicuri che quelli che sono il grano che è rimasto è veramente puro e può essere comestibile e se andiamo insieme nel in Matteo capitolo 3 che abbiamo letto prima al versetto 12 c'è qualcosa che forse ci è sfuggito quando l'abbiamo letto prima al versetto 12 dove è scritto egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aglia lui ha il suo ventilabro a cosa serve il ventilabro perché abbiamo visto durante la vaglia la vagliatura la prima fase c'è il vento che passa per poter portare via il grano che è ancora debole che non ha peso e come si fa questo in modo adesso più dettagliato già abbiamo detto le fasi adesso andiamo a vedere in modo concreto come si farà perché prima dobbiamo capire le cose come si fanno dal punto di vista fisico materiale quando le abbiamo capito allora le applichiamo nel linguaggio spirituale come faceva Gesù adesso andiamo a vedere in modo pratico come Dio fa lo scottimento la prima fase abbiamo parlato dell'evento della vagliatura abbiamo visto che Gesù Cristo ha in mano il suo ventilabro abbiamo parlato del vento il vento può rappresentare tante cose nella Bibbia secondo il contesto secondo il contesto perché non possiamo dire se vogliamo spiegare una cosa nella Bibbia dobbiamo entrare sempre nel contesto perché un testo che è fuori dal contesto diventa un pretesto entriamo sempre nel contesto ci sono nei momenti in cui nella Bibbia il vento rappresenta le guerre ci sono i momenti in cui nella Bibbia il vento rappresenta anche le dottrine e vedremo perché quindi andiamo nel contesto come si fa per la vagliatura quando il vento passa se andiamo se parliamo delle false dottrine noteremo che le false dottrine Dio permette le false dottrine per un motivo preciso perché le false dottrine corrispondono alla vagliatura alla prima fase dove il vento passa e questo andiamo insieme a leggere Efesini capitolo 4 versetto 14 affinché non siamo più bambini sbalottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini per la loro astuzia mediante gli inganni dell'errore affinché non siamo più bambini sbalottati e trasportati da ogni vento di dottrina quindi Dio dice Dio permette che nella sua chiesa ci sono false dottrine per quale motivo per fare in modo che si possa riconoscere il buon grano della zizagna per separare e per quello che lui dice ai suoi discepoli ai suoi servitori non ci penso io non ci pensate voi non siete voi che dovete perché per paura di 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 si radicare sia il buon grano che la zizagna lasciate lo farò io lo farò io per quello che solo Dio può separare il grano della zizagna e usa diciamo che non è che Dio usa la falsa dottrina diciamo che Dio come è scritto in Romani capitolo 8 versetto 28 ogni cosa coopera per il bene di colui che ama l'eterno che è chiamato secondo il suo destino e in Genesi capitolo 50 versetto 20 vediamo bene quando Giuseppe parla ai suoi fratelli lui dice voi avete voi avete meditato il male nei miei confronti ma Dio lo ha girato in bene non è che Dio era l'autore del male no non è che Dio aveva aveva ispirato i fratelli di Giuseppe a venderlo in Egitto no ma Dio ha usato questo per poter essere usare ha permesso questo per usare poi Giuseppe per essere una benedizione per i suoi fratelli sia per i suoi fratelli per la sua famiglia che per tutto l'Egitto e per tutto il mondo antico e per quello che dice le false dottrine non vengono da Dio ma Dio le usa per poter pulire la sua chiesa per quello che dobbiamo essere sicuri di essere nella sana dottrina nella sana dottrina importantissima quindi il vento usato qual è in questo contesto come abbiamo detto secondo questo contesto sono le false dottrine possiamo anche leggere in Atti capitolo 20 da 29 a 30 con la sorella infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci i quali non risparmieranno il grege e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporanno false dottrine per trascinarsi dietro i discepoli per trascinare dietro i discepoli quindi questi discepoli che saranno trascinati a meno che qualcuno si ravveda e poi ritorna e cerca Dio per se stesso lui sarà trascinato da questi venti queste false dottrine perché Dio permette queste cose per poter separare il buon grano il grano dalla zisagna quindi le false dottrine sono mezzo usato da Dio oppure permesso da Dio per la separazione questa è la vagliatura come abbiamo visto se vi ricordate l'immagine che abbiamo visto di questa donna con il setaccio così che fa così perché il vento passa e trascina lontano dal setaccio i grano che sono deboli e che non hanno peso che non sono buoni questa è la prima tappa come Dio ancora fa per la separazione usa la seduzione oppure non è che Dio seduce perché Dio non seduce nessuno Dio non tenta nessuno ricordiamoci in Giacomo 1 versetto 13 Dio non tenta nessuno e non può essere tentato solo il nemico seduce perché il grande sedutore è il nemico ma Dio userà quella seduzione al suo vantaggio quindi adesso parliamo della seduzione come fa il nemico perché il nemico è un modo molto preciso per per diciamo per fare in modo che la gente si perda c'è la seduzione anche e poi dopo la seduzione vedremo che quando la seduzione non funziona lui passa la tappa superiore è quella che seguirà dopo la seduzione cosa ci dice la parola di Dio Matteo capitolo 24 versetto 4 leggiamo insieme e Gesù rispondendo disse loro guardate che nessuno vi seduca guardate che nessuno vi seduca chi seduce è il nemico e poi leggiamo ancora in Matteo capitolo sempre Matteo capitolo 24 da 9 a 13 allora vi sottoporanno a supplizi e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome allora molti si scandalizzeranno si tradiranno e si odiranno l'un l'altro e sorgeranno molti falsi profetti e ne seduranno molti e perché l'iniquità sarà moltiplicata l'amore di molti si raffredderà ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato e sorgeranno molti falsi profetti e ne sedurranno molti quelli che sono seduti perché sono seduti ricordiamoci quando avevamo parlato in seconda seconda parlando della seconda venuta del falso oppure la falsa la contraffazione del del Cristo abbiamo visto che quelli che sono persi che verranno persi saranno persi perché non hanno amato la verità la verità per quanto riguarda cosa secondo il contesto sempre secondo il contesto la verità per quanto riguarda la seconda venuta di Gesù Cristo come abbiamo detto sono quelli che dicono eh no non c'è bisogno di studiare le profezie tanto non ascoltate quelle lì sono 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 i dissidenti sono salarmisti parlano di tutto perché perché dicono questo perché non amano la verità e non vogliono che la gente ami la verità e chi sarà seduto e chi non avrà amato la verità per quanto riguarda il secondo avvento di Gesù come abbiamo detto chi non è informato sull'argomento sarà attratto dalle false dottrine e sarà seduto dal falso Cristo è importantissimo se no Gesù non avrebbe perso il suo tempo a raccontarci tutte quelle cose c'è qualcuno che aveva detto un giorno oh no non ho bisogno di sapere tutte queste cose il santuario e l'espiazione no non ho bisogno perché tanto amo Gesù ok tu ami Gesù veramente no non ami Gesù sei egoista perché in realtà tu cerchi il regno di Dio solo per te tu cerchi il regno di Dio per quello che ti promette ma non per la persona che rappresenta Gesù perché quando la buona notizia è per noi quando l'Evangelio per noi è una buona notizia la condividiamo per forza come dice Paolo io mi lui dice ma vuoi a me se non predico la necessità mi è imposta perché lui ha questo fuoco nel cuore di condividere quella bella notizia ma se tu non vuoi sapere cosa Dio ha detto nella sua parola e tu dici Dio mi ama allora verrà e mi prenderà con lui non ho bisogno di studiare tutte quelle cose non mi servono sei già sedotto perché solo quelli che avranno cercato la pella rara che si trova nella parola perché non è in superficie è sempre in fondo chi avrà trovato la perla sarà salvata e sedurano molti falsi profeti e ne sedurano molti come è scritto nel versetto undici perché ne sedurano molti per sempre per la separazione del grano e della gizzagna la gizzagna si verrà sedotta anche i figli di Dio potrebbero essere sedotti se lasciano se dimenticano che sono che il lion che lucifero Satana è come un lion ruggente che gira che cerca di divorare ma se ascoltiamo questo messaggio adesso significa che siamo ancora vivi e significa che c'è ancora la possibilità di ritornare al padre forse siamo stati seduti ma abbiamo ancora la possibilità se non induriamo i nostri cuori come nel deserto alla giornata di Massa nel deserto come dice la parola quindi la seduzione sarà molto grande e possiamo anche leggere sempre per quanto riguarda la seduzione secondate sanno incesi 2 10 a 11 scusate che l'ho scritto qua in francese e da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati e per questo Dio manderà loro efficacia di errore perché credano alla mentogna è quello di cui parlavamo ogni tipo di inganno di malvagità per quelli che periscono perché hanno rifiutato di amare la verità se non amiamo la verità fratelli saremo seduti e se adesso ci accorgiamo che non amiamo la verità significa che siamo ancora vivi e che possiamo chiedere a Dio di mettere questo nei nostri cuori perché è la sua promessa quindi un altro tipo un altro metodo per separare il grano della zagna e la seduzione e come abbiamo detto quando il nemico non riesce a sedurre qualcuno cosa fa? tribolazione è così sempre così ha sempre funzionato così quando non riesce a sedurti ti ti perseguita è per quello che uno una delle armi del maligno è la tribolazione ma come abbiamo detto come Giuseppe dice ai suoi fratelli voi avete meditato in male nei miei confronti ma Dio l'ha girato in bene quindi le tribolazioni sarà un metodo per la separazione è per quello che andiamo a leggere insieme in Daniele capitolo 7 da 2 a 3 Daniele dunque prese a dire io guardavo nella mia visione di notte ed ecco i quattro venti del cielo squazzavano il mar grande e quattro grandi bestie salivano dal mare una diversa dall'altra qua abbiamo i venti qua abbiamo prima abbiamo parlato dei venti in Efesini capitolo 4 che sono dottrine vedete bene che la parola quando si studia è secondo il contesto non possiamo prendere venti lì che significa dottrine e poi venire applicare qua in questo contesto per dire allora significa venti che significa dottrine no Daniele dunque prese da dire lo guardavano nella mia visione di notte ed ecco lo guardavo volevo dire nella mia visione di notte ed ecco i quattro venti del cielo sguassavano sguassavano il ma grandi ricordiamoci in Apocalisse capitolo 7 quando si dice dei quattro degli angeli che trattengono sono i quattro venti lì non sono dottrine ma secondo il contesto sono tutte sono tribolazioni quindi vento secondo il contesto può essere tribolazioni guerre pestilenze in altri contesti dottrine quindi vediamo e poi ricordiamoci di Pietro Pietro non voleva le tribolazioni Pietro non voleva i venti nella sua vita ricordiamoci anche della parabola delle due case quando la tempesta è contro sbatte contro le due case quella costruita sulla roccia e quella costruita sulla sabbia i venti c'erano i venti e cosa rappresentano i venti ha lo stesso significato che in questo versetto i venti saranno scuotati 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 o scuoti ok mi avete capito e possiamo anche leggere in questo di cui abbiamo parlato Apocalisse capitolo 7 versetto 1 dopo queste cose vedi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiasse vento sulla terra né sul mare né su alcun albero trattenevano i quattro venti della terra il linguaggio adesso qua è diverso sono tribolazioni sono guerre sono persone sono tutto quello che viene insieme leggiamo anche ancora un altro un altro testimone in Geremia 49 da 36 a 37 io farò venire contro Elam i quattro venti dalle quattro estremità del cielo li disperderò a tutti quei venti e non ci sarà nazione dove non giungano i fuggiaschi di Elam renderò gli elamiti spaventati davanti ai loro nemici e davanti a quelli che cercano la loro vita farò venire su di loro la calamità la mia era ardente dice l'Eterno manderò dietro di loro la spada finché non li avrò consumati e la domanda è questa visto che la tribolazione sarà anche usata per poter girare male in bene per la separazione che Dio permette questo per la separazione del grano della gizzania quale sarà il nostro atteggiamento andremo a pregare queste tribolazioni ci permetteranno forse di avvicinarsi ancora meglio a Dio di avvicinarsi di più a Dio oppure di allontanarci da Lui questa è una bella domanda per ognuno di noi la sua relazione personale con Dio adesso andiamo a leggere qualche promessa nella parola di Dio in Geremia capitolo 6 da 20 a 21 in verità in verità vi dico voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà voi sarete afflitti ma la vostra affezione sarà mutata in gioia la donna quando partorisce sente dolore perché è giunta la sua ora ma appena ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che è venuto al mondo un essere umano voi sarete afflitti questa è una certa cosa certa ma la vostra afflizione sarà mutata in gioia questa è ancora un'altra promessa che Dio ci fa e se leggiamo anche in Luca come quello di cui abbiamo parlato prima in Luca capitolo 22 quando Gesù Gesù Cristo parla a Pietro leggiamo insieme il Signore disse ancora Simone Simone ecco Satana ha chiesto di valiarvi come si valga il grano ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu quando sarai ritornato conferma i tuoi fratelli mettiamo ognuno di noi i nostri nomi al posto di spietro di Simone Pietro il Signore disse ancora Denis Denis Marco Marco Yolanda Claudia Lusorio e tutti noi mettiamo i nostri nomi qua Satana ha chiesto di valiarvi come si valia il grano quando abbiamo parlato di valiare della valiatura abbiamo parlato del vento e abbiamo visto che il vento rappresentava le dottrine se noi non siamo ancorati nella parola di Dio e che noi non studiamo per noi stessi di poter che se non siamo capaci di difendere la nostra fede c'è un problema dobbiamo essere in grado anche con le nostre parole non essere per forza dei predicatori non so ma sapere a meno rispondere a chi ci chiede la speranza che è in noi come è scritto in Prima Pietro capitolo 3 verso 15 di essere sempre pronti a rispondere con dolcezza e rispetto a chi ci chiede la speranza che è in noi quindi noi se non siamo in grado di rispondere è un problema noi dobbiamo essere dei discepoli è quello che dobbiamo essere dei discepoli dei discepoli per fare altri discepoli dei leader che fanno altri leader la valiatura abbiamo parlato anche di Gesù come Gesù parla qua a Pietro Satana ha chiesto di valiarvi come si vale grande l'altra valiatura abbiamo visto le tribolazioni ma cosa dice Gesù io ho pregato per te Gesù ha già preveduto per il futuro per noi è come se come se Gesù sapendo che nel futuro avremo immaginiamo qualcuno che già ci sono i genitori che quando crescono quando hanno i loro bambini appena è nato i bambini hanno già creato hanno già aperto un conto in banca per loro per gli studi che faranno quando saranno all'università hanno già preveduto per il futuro il figlio arriverà dopo quanti anni forse a 18 anni quindi lo fa mette qualcosa da parte per 18 anni dopo quindi Gesù ha già preveduto per noi nella preghiera affinché la nostra fede non venga meno perché lui vuole che dopo essere uscito da tutte queste tappe che possiamo essere puliti come come loro e possiamo leggere in Apocalisse 13 versetto 14 oppure leggere solo il versetto 16 a 17 inoltre faceva sì che a tutti piccoli e grandi ricchi e poveri liberi e servi fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome quindi vediamo bene che il mondo sarà separato in due in due gruppi e come abbiamo visto in Matteo capitolo 24 dopo l'abominazione della desolazione come scritto in versetto 15 il mondo sarà separato in due in due parti quelli che fuggono e quelli che rimangono quelli che fuggono chi sono? Sono quelli che osservano il sabato sono quelli che osservano il sabato perché Gesù dice che la vostra fuga non avvenga né d'inverno né di sabato perché quelli che fuggono sono quelli che osservano il sabato questo ci fa capire bene che l'abominazione della desolazione ha a che fare con il sabato che nessuno potesse comprare o vendere quindi noi Gesù già ci dice che quel momento verrà ma se non siamo ancorati nella parola saremo fra le zizzagne oppure la zizzagna vediamo ancora in Giovanni per andare sulla conclusione Giovanni capitolo 6 diciamo versetti 60 66 a 68 udito questo molti dei suoi discepoli dissero questo parlare è duro chi lo può capire da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui allora Gesù disse ai dodici volete andarvene anche voi e Simon Pietro le rispose signore da chi ce ne andremo tu hai parole di vita eterna da chi andremo la cosa che ci deve interessare fratelli e sorelle non è di andare di luogo in luogo per cercare non sa che cosa ma il messaggio perché è la parola che ci santifica ok ci sono quelli che sono corrotti ci sono quelli che fanno quelle che non sono bene non danno più la parola di vita sì ma quello che ci interessa è il messaggio perché il messaggio è tutto per noi è qua che trovo il messaggio quindi mi aggrappo qua perché è il messaggio che mi interessa perché è il messaggio che è la parola di vita Pietro dice ma dove andiamo dove dove andiamo noi perché tu hai le parole di vita eterna e se non siamo ancorati in quella parola saremo durante la vagliatura saremo portati via dal vento durante le tribolazioni saremo separati durante la seduzione saremo sedotti per quale motivo c'è un motivo perché Dio permette questo ne abbiamo parlato prima e qua è ancora più chiaro in prima Giovanni 2 da 18 a 19 leggiamo con la sorella fanciulli è l'ultima ora e come avete udito l'anticristo deve venire e fin da ora sono sorti molti anticristi da questo conosciamo che è l'ultima ora sono usciti di mezzo a noi ma non erano dei nostri perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri capito ancora bene fratelli quindi questo accade false dottrine tutto per quale motivo per la separazione e come avete udito l'anticristo deve venire e fin da ora sono sorti molti anticristi da questo conosciamo che è l'ultima ora sono usciti di mezzo a noi ma non erano dei nostri perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi le false dottrine tutte arrivano per la separazione la seduzione per la separazione tribolazioni per separazione e quelli che amano anche il mondo c'è anche questo da non lasciare indietro come scritto in seconda timoteo 4 versetto 10 perché Dema mi ha lasciato è Paolo che parla lui era suo compagno che li ha lasciato per quale motivo lui pensava di essere missionario come lui loro dovevano lavorare insieme nella missione ma cosa è successo perché Dema mi ha lasciato avendo amato il mondo presente e se ne è andato a Tessalonica crescente è andato in Galazia e Tito in Dalmazia vediamo che Dema aveva lasciato abbandonato Paolo per l'amore del mondo sempre questo fa parte della valiatura seduzione e tutto quello di cui abbiamo parlato quindi dobbiamo farci la domanda per concludere quale tipo di discepolo siamo quale tipo di cristiano siamo quale tipo di figlio di Dio siamo siamo un figlio di Dio che è seduto sulle panche di chiesa solo con la Bibbia a mano che sarebbe un po' come rimanere con una sala di cinema con il popcorn e la Bibbia lì che non dice niente ascolta tutto non può dire fratelli no qua sta scritto perché se non siamo in grado di dire sta scritto con dolcezza e rispetto saremo sedotti quindi dobbiamo parlare dobbiamo esprimersi esprimerci perché se non lo facciamo fratelli siamo già sedotti potremmo rimanere e dire no no non voglio perché poi se parlo direanno sono io che diviso la chiesa Gesù era qualcuno che divideva la chiesa Giovanni Battista era qualcuno che divideva ma per amore della verità lui diceva quello che deve essere detto non ascoltava solo il pastore parlare e lui in modo passivo accettava tutto no siamo tutti lì per crescere per essere dei discepoli abbiamo finito se per quelli che non hanno i nostri i nostri i nostri i nostri indirizzi elettronici questi sono i nostri indirizzi elettronici se ci volete scrivere se no poi comunque dopo c'è la c'è la sezione delle domande e delle risposte queste sono le cose future per chi vorrà scrivere che Dio ci benedica e ci dà il suo spirito in modo che ognuno di noi si possa porre la domanda quale tipo di discepoli siamo amén 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 gloria al Signore che Lui possa davvero fare di ognuno di noi questi discepoli che vogliamo essere per la sua gloria un benvenuto a tutti i fratelli che si sono aggiunti nel frattempo che il Signore vi benedica tanto ecco è già alzata una mano però prima del momento che è il momento speciale poi dello studio che è il vostro momento prenderemo qualche minuto di pausa qualche minuto giusto per darvi il tempo di bere tre minuti esatti e poi ci ritroviamo qui con la parte delle domande e delle risposte e sarà Arelis ad iniziare ad introdurre questo momento rimanete collegati e ci vediamo fra pochi minuti tra tre minuti insieme con la parte delle domande e delle risposte a fra poco grazie a tutti grazie a tutti